La bellezza violata e questo è il tema di un'interessante mostra che sarà ospitata dal Castello Aragonese di Taranto dal 20 al 26 luglio prossimi. 30 le opere in esposizione nell'antico maniero che ha ospitato anche la conferenza stampa di presentazione. Alla presenza della vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Giuseppe Turco, intervenuto l'ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello e l'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. Poi la curatrice Natalia Italiano e gli artisti Anna Cristino, Michele Gomez, modellatrice e la giornalista Maristella Massari. L'iniziativa si inserisce nel percorso di riqualificazione culturale di Taranto, riconosciuta città d'arte dalla Regione Puglia. Questa è una mostra di pittura di arte contemporanea che ha voluto affrontare un tema molto importante che è quello della bellezza. E quando questa bellezza viene violata perché comunque subisce una violenza o per mano dell'uomo, soprattutto per mano dell'uomo, questi sono gli effetti che poi produce. E quindi visitare la mostra significa fare un percorso attraverso anche una sofferenza, delle ferite che la violenza produce, che può produrre su un corpo di una donna, quando subisce appunto violenza anche fisica, psicologica, la violenza che viene perpetrata ai danni di un paesaggio, che altera i colori di un tramonto. E quindi è un invito a appropriarci nuovamente del concetto di bellezza, perché la bellezza è armonia, è equilibrio e la bellezza è amore. Diffondere la cultura e difendere l'arte è anche un nostro messaggio, un nostro compito. E quindi noi il castello l'abbiamo reso disponibile per questa mostra sulla bellezza violata, perché il castello è proprio un centro di gravità della città, è proprio un centro culturale e deve essere aperto a queste mostre, a queste attività. Grazie a tutti.